Sinergico, vedo tanti vantaggi, gli svantaggi quali sono? Sono ancora da stabilire, c'è bisogno ancora di ulteriore esperienza per dire che questi peperoni a naso, questo è il secondo anno che io sul bancale pianto i peperoni, nemmeno quest'anno stanno rispondendo come rispondono nel terreno fuori dal bancale, c'è un raccolto maggiore, anche la pianta dà più frutti perché qui noi potremmo vedere un solo peperone, una pianta ha un solo peperone e soprattutto una pianta piccola che già ha un frutto così grande, questa non è una cosa buona perché la pianta prima deve crescere, è maggiore la sua proporzione e maggiori frutti farà, in questo caso si sta sbrigando a procreare quindi ha smesso di crescere e adesso nutre il frutto quindi questa è una pianta che che resterà così si farà magari un altro peperone ma fermati ma nel terreno normale se ci capiterà di vederli tra qualche tempo vedrai una pianta con quattro cinque peperone con due fioriture pure. Quindi per certi tipi di piante forse il bancale non è l'ideale? Non so dirti ancora perché se la temperatura se la paglia se non lo so il fatto che io stia dando meno acqua non credo perché comunque il terreno più umido c'è poco da fare più è coperto vegetale e più rimane umido.